Il reato, vediamo il cartello 1, eccolo qui, prevede l'estensione dei cosiddetti reati d'odio per discriminazione razziale, etnica o religiosa a chi compie discriminazioni verso omosessuali, donne e disabili. Vado da Marina Terragni, poi c'è naturalmente un capitolo che riguarda le pene, carcere da sei mesi a quattro anni per chi istiga a commettere o commette violenza, le discriminazioni omofobe viene stesa, questo è il cartello 2, un aggravante che aumenta la pena fino alla metà e poi c'è in questo testo, naturalmente più lungo e più complesso di questo, questa è ovviamente una sintesi, cartello 3, il testo prevede una clausola che fa salve la libera espressione di convincimenti o d'opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee. Allora Marina Terragni è però critica nei confronti di questo provvedimento, critica ci dice naturalmente perché, ma nel senso che sarebbe meglio fermarlo e riscriverlo come la Lega si accinge a fare perché presenterà una nuova proposta che potrebbe poi bloccare l'iter, questo poi lo vediamo con i nostri ospiti politici, ma le chiedo, intanto ti chiedo Marina, perché non va bene questo testo? Ma intanto bisognava discutere di più, Emanuele Fiano dice che i media non se ne sono occupati, ma veramente rompere il muro di silenzio è stato impossibile, la legge è andata, il DDL è stato approvato a novembre quando si riempivano le terapie intensive, il paese era totalmente distratto, ma dato che questa legge va a toccare dei temi non sensibili, sensibilissimi, è proprio necessario che si accompagni con un dibattito molto ampio che coinvolga tutta la società, perché per esempio del divorzio, dell'aborto, della fecondazione assistita abbiamo discusso per anni, qui che cosa è in questione? Non tanto l'ovvia necessità di proteggere persone come Malika, per fare un caso che è stato molto usato a titolo di esempio, e su questo siamo d'accordo tutti, abbiamo combattuto tutti e tutte, soprattutto tutte, perché il femminismo ha accompagnato il movimento di liberazione LGBT per molti anni. Qui il tema su cui c'è una mobilitazione mondiale è quello dell'identità di genere, ed è effettivamente il core, il nucleo vero di questa legge. Su questo tema, ieri sera sentivo la professoressa Braidotti sulla vostra rete, e lei parlava di post-umanesimo. Allora, se dobbiamo entrare nel post-umanesimo, e il portone principale è questo dell'identità di genere, poi casomai spieghiamo perché, abbiamo fatto un sondaggio su questo tema in crowdfunding, che è pubblicato oggi sulla stampa, se noi dobbiamo entrare nel post-umanesimo, bisogna che ne discutiamo, perché qui andiamo veramente a toccare le radici dell'umano. Ci sono leggi in Europa contro l'omotransfobia che fanno tranquillamente a meno di questo concetto dell'identità di genere, e si combatte dappertutto in Spagna, in Germania, perché quest'identità di genere entri a far parte del patrimonio legislativo. Per esempio l'Inghilterra, che è stata la pioniera da questo punto di vista, dopo anni e anni di dibattito pubblico, ha chiuso totalmente con il cosiddetto self-ideal, l'identità di genere, e ha chiuso con i corsi nelle scuole, e quindi direi, cioè io quando sento Monica Cirinna dire, discutiamo, anzi quasi, discutete pure, il testo non si tocca, io rimango un pochino impressionata. Ma che cosa vorresti che fosse modificato nel testo? Beh, senz'altro eliminato l'espressione identità di genere, perché è un ambiguo, è un percepito che viene inserito in una legge penale, e la Costituzione, come mi insegnano i parlamentari, deve ingiungere la legge penale di contenere oggetti determinati e tassativi, e qui proprio non ci siamo, perché la definizione di identità di genere è tautologica, non si capisce cos'è, è un percepito. Io devo sapere se sto commettendo un reato, non posso essere nell'incertezza della mia interpretazione e poi essere affidata all'arbitro di un giudice. Poi ci sono altre questioni, per esempio vorremmo capire per quale ragione un genitore non deve poter scegliere se mandare un ragazzino minore a questi corsi nelle scuole dove non si parla più di amori omosessuali o non si fanno più vedere film, appunto, tipo, adesso non mi ricordo, ma questi film sugli amori omosessuali, perché i ragazzi da questo punto di vista sono scafatissimi, conoscono Tommaso Zorzi, è un loro mito, Malgioglio è un loro mito. Si parla fondamentalmente di due temi, carriera alias, identità di genere, cambio di sesso e utero in affitto. Questi sono i temi che vengono portati oggi nelle scuole, oggi nelle scuole. Allora io probabilmente per mia formazione mio figlio ce lo manderei, ma voglio salvaguardare il fatto che la mia vicina di casa... Però questo dice Fiano, non c'è... No, no, non ho capito, ho capito molto la riflessione profonda di Marina Terragni e penso che sia degna di assoluta attenzione ed è un punto non delicato, di più la questione dell'identità di genere. No, ma siccome lei ha detto Corsi, qua si parla di una giornata che nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, in accordo con i genitori della scuola, si organizzi in quel giorno delle iniziative che spieghino il contrasto alla discriminazione. Corsi nella legge non sono citati. Sì, Emanuele, i corsi ci sono già, ci sono due papà... No, ho capito, Marina, ho capito che ci sono già, ma parliamo della legge. Però, dice Emanuele Fiano, questo è un tema, ma non è lo specifico della legge. Mentre specifico della legge, identità di genere, in che senso? Ed è la ragione Gasparri per cui non piace alla destra? No, posso aggiungere solo un'altra questione? Un momento, allora facciamo fare velocemente Marina Terragni e poi Gasparri. No, velocissimo, un altro tema che vorrei citare è quello della misoginia, che è stata infilata, mi dicono, per iniziativa di donne del PD e non si capisce perché, secondo me perché sentivano un po' rumoreggiare intorno a questa legge, perché noi sono, ripeto, mesi che lavoriamo e anni che studiamo questi temi, ma purtroppo non abbiamo avuto ascolto, perché Zan l'abbiamo interpellato almeno 30 volte, non abbiamo avuto nemmeno risposta, ci rinnano, ne parliamo. Ora, la questione della misoginia, noi non possiamo, noi non abbiamo, nessun gruppo ha mai chiesto una legge sulla misoginia in Italia, non perché il problema non ci sia, direi che l'emergenza numero uno dal punto di vista della violenza, ma perché non crediamo che la strada sia quella, perché è un problema di civiltà, non è un problema di reati penali. E quindi ci siamo ritrovate questa foglia di fico, non so, ripeto, a chi è venuta l'idea, se a Boldrini o a chi, imbarazzante messa lì così, perché intanto nega l'autodeterminazione, una legge casomai la chiediamo noi, e in secondo luogo ci infila tra le minoranze, che come quando... Ecco, questo mi sembra il punto, cioè le donne messe tra le minoranze. Gasparri, qual è invece la critica?